Sindaco Luigi Mennella, alla ripresa dell'attività lavorativa dopo la pausa estiva, qual è la fotografia, una panoramica di Corso Umberto, dello stato di fatto dei lavori di Vicopizza, quale al momento la situazione di questa arteria fondamentale della città? Intanto non c'è stata nessuna pausa estiva, voglio chiarire un attimo sto fatto, quindi l'estate è passata, abbiate chi se l'è fatta e va bene così. Attualmente voi sapete che abbiamo proprio durante il periodo di agosto fatto in modo che gli abitanti dei tre palazzi su Via Corso Umberto I potevano accedere, così come aveva dichiarato già antecedentemente, adesso stiamo passando all'altra fase, è quella di incominciare i lavori per far entrare le famiglie di Vicopizza. Ovviamente abbiamo dovuto attendere questo momento perché il palazzo, quello lì, il Civico 69, ha dato in carica un loro tecnico che sta facendo dei progetti affinché per la sicurezza del palazzo, questo ci consentirà ovviamente di lavorare in sicurezza ma anche di creare un ulteriore tunnel che possa consentire poi a queste povere famiglie di finalmente rientrare nella loro abitazione. Una serie di provvedimenti dunque da mettere necessariamente in campo per offrire uno spiraglio di sollievo a quanti ancora oggi, dal 16 luglio scorso, vivono la difficoltà di non potersi ritrovare tra le mura delle proprie abitazioni, in un quartiere oltretutto segnato anche dall'ulteriore disagio di una totale paralisi dell'attività commerciale. Una rabbia quasi esasperata manifestata nei giorni scorsi per chiedere tutele e risposte all'amministrazione comunale, oggi a lavoro anche per risolvere l'ulteriore rebus della viabilità, considerata l'imminente ripresa, delle attività scolastiche e la centralità funzionale di collegamento di Corso Umberto. Tra una settimana ci sarà anche la ripresa dell'anno scolastico e Corso Umberto è comunque una delle arterie fondamentali di collegamento con un quartiere della città ricco e popoloso dal punto di vista di strutture scolastiche. L'amministrazione immagina o ha elaborato un piano di circolazione alternativo? La chiusura di Corso Umberto dipende esclusivamente in questo momento dal palazzo crollato che è sottoposto a sequestro della magistratura. Quindi l'amministrazione comunale, il sindaco può fare praticamente poco o nulla se non quella di sollecitare. Ho ricevuto anche dei commercianti, ho detto loro che ci attiviamo per trovare una soluzione, per potergli stare vicino, per potergli dare una mano. Intanto ho parlato con il comandante Visone per la questione della viabilità, fare in modo che il tratto di strada che va da Piazza Santa Croce, che poi passa a fianco appunto a Corso Umberto, possa trovare sfogo scendendo e questo per fare in modo che ci sia una percorribilità anche di auto e magari in qualche modo dare la possibilità agli altri di vendere nella speranza che si possa attivare qualche circuito favorevole.